le bellino cerchio e seno attraverso nt antonello anna patrizia antonello metti le mani a coppa perché ho un dono per te le bellino l'ho scelto io va bene non ho i gusti di una donna ma antonello era un artista lo sapete con la terracotta o anna vuoi che ti porto uno di quelli che facevo io anna sì sto aspettando con le mani a coppa antonello so piccole le tue mani anna aggiungo quelle di e fisio antonello o e fisio la tua moglie le proprio una birba e fisio lo so lo so ho imparato abbastanza a conoscerla 60 anni insieme antonello posso dirvi una cosina tanti anni che siete stati insieme incarnati e starete tanti anni insieme disincarnati perché proseguirete nello stesso livello se c'è qualcuno che si deve lamentare è il povero virgilio e lui non sa mica dove deve andare o patrizia ci sono riuscito anche parlando vedi l'antonello sta diventando sempre più bravo vediamo un po se è venuto bene c'è pure l'anellino guarda un po ci sono riuscito ecco qua io so che tu sei felice e ti accontenti di poco però non ti lamentare più patrizia grazie di cuore commento l'entità antonello è nel cerchio e seno un'entità che si potrebbe definire di alleggerimento come altre entità lo sono state in altri cerchi storici e fisio è il marito di anna virgilio giunge alle riunioni sempre insieme ad anna ed e fisio